Buongiorno, oggi sono vestita mezza da lavoro e mezza bene. Ho i vestiti di ricambio là dietro perché dopo lavoro vado subito a Bocca, Fimps, quegli uffici là perché devo sistemare la faccenda disoccupazione che mi è stata data però io avevo un contratto di lavoro che non sapevo di avere. Ecco, perché chi ha fatto i contratti ha sbagliato a farli, dovrebbe essere quella persona a pagare, non io. E quindi vado a vedere come mi devo muovere adesso, devo ridare i soldi all'Inps praticamente. Vabbè, intanto la paga non è ancora arrivata, dovrebbe arrivare oggi. Mi hanno assicurato arriverà oggi che è venerdì 27, quindi lo speriamo bene. Sono le 6.23 come l'altro video, sto aspettando mia mamma, stiamo per andare a lavorare. Niente, il cielo è tutto bello e sereno quest'oggi, quindi si spera rimarrà così ma non credo, non credo. Anche ieri poi si è nuvolato, poi ha fatto sole, nuvole, sole. Non sono più andata a prendere il sole alla fine. Nel vlog vi avevo detto che stoppavo e poi sarei andata a prendere il sole in realtà. Poi ha fatto nuvolo alternato al sole, ma più nuvolo che sole, quindi l'ho lasciato perdere. Dovrei approfittare la mattina dopo lavoro e prendere il sole, però non ho mai voglia, sono sempre stanca e non mi prendo mai la roba dietro. Eccomi, allora, pensavo di aver registrato, in realtà no. Allora, subito dopo lavoro mi sono cambiata, lì a lavoro ancora. E sono portato mia mamma a casa e sono venuta subito qua a Pieve. Praticamente il contratto di lavoro mi doveva partire il 18 di giugno. Hanno fatto copia e incolla con il contratto di mia mamma che partiva all'11. Quindi io a quei giorni là ho percepito la disoccupazione e devo ridarla indietro. E quindi io non so come devo fare. Sono stanca morta. Qui c'è una lavanderia sotto. C'è un odore ogni volta. Eccomi qua. Sono arrivata. In sostanza io non so cosa devo fare con... Come devo muovermi adesso. E non sono l'unica in questa situazione perché c'è chi ha percepito la disoccupazione di tutto giugno e lavorava. Cos'ho risolto aspettando più di un'ora? Ho risolto niente, come immaginavo, perché devo arrangiarmi anche questa volta. Non so se vuoi che vado su per il muro, dimmelo. Lasciamo perdere. Praticamente io devo volare, non posso camminare, non c'è un marciapiede qui. Devo mettere gli occhiali da sole. Comunque ho risolto che cosa? Che devo fare un'altra comunicazione all'Inps, sempre via telematica. Solite cose. Dove dico che nelle notte che praticamente c'è stato questo errore della società e devo ridare i soldi che mi hanno dato. Ecco, sono arrivata alla macchina, stanca morta, ho sete, lì non ne potevo più perché c'era gente che stava dentro veramente un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora. Oh, quando si cerca la chiave della macchina non si trova mai. Eccola qua. Mi sono dovuta appoggiare per terra. Ok. E quindi ecco, ho risolto queste cose. Insomma, mi ha detto come devo fare. E quindi praticamente è la stessa cosa di quando ho comunicato che avevo iniziato a lavorare. Stessa comunicazione. Adesso io avrei anche fame. Non ho neanche fatto colazione oggi perché, scusate, perché appunto non ne ho avuto il tempo materiale. Perché sapevo che ci sarei stata tanto qua in questo ufficio perché ci sono persone che stanno 5 minuti, persone che ce ne stanno molti di più. Questo qui davanti a me si è parcheggiato troppo vicino e che io spero di riuscire ad uscire da questo parcheggio. E ci sentiamo più tardi perché adesso devo... Vado un attimo al Prix, il negozietto che vi dico sempre. E prendo quello che mi manca che ieri non ho preso perché poi non mi sono più ricordata di fermarmi con mia mamma. Quindi vado anche là e poi vado a casa perché sono le 11.10. Quindi sono arrivata qui a meno un quarto alle 10. E sono ancora qua. Non potete immaginare. Ho fatto tutta una corsa. Comunque sono a casa ed è mezzogiorno e 10 passato. Però sono arrivata a casa e ho messo già su l'acqua e devo far veloce il pranzo. Per cui penso farò gli gnocchi quelli già pronti che ci vuole pochissimo. E quindi farò quelli con il burro fuso e il grana. Adesso vi faccio vedere le poche cose che ho preso di spesa. Così non faccio un video a parte. Perché no, vi metto il video spesa dentro a questo. Però ci mettiamo di fuori come al solito. Sì. Ci mettiamo di fuori che così c'è anche più luce. Si vede meglio la roba. E gli scontrini semmai ve li faccio vedere dopo, più tardi. Perché adesso sono un po' incasinata. E ho solo aperto questa porta qua e basta. Non ho fatto altro. Va bene. Tiro fuori la spesa. Questo pane che è buonissimo. Anche da fare i tost. Solo che è un po' grande per la tostiera. Però comunque è buonissimo. Integrale senza crosta è veramente buono. Dunque è del pricks questo. Poi, questo era, non l'ho mai visto, è una novità. Un euro. Ci sono le patatine e il succo. Praticamente ecco, il sacchettino piccolo di patatine e il succhetto. Succhino, succhino, succhino da 125 ml. Poi c'erano questi in offerta. Io ho preso quel tramezzini a questo qua, kebab di tacchino. Non credo mi piacciono, insomma li ho presi. Poi ho preso la nocciolata. Poi i miei soliti due tubetti di salsina di pomodoro mutti. C'erano le spinacine in offerta. Queste erano alla E.O. Un euro e 35. Non le ho mai prese perché io non compro niente dell'A.A. Però erano in offerta. Ho detto, vabbè, me le posso fare anche per pranzo che sono veloci. Poi ho preso il tonno. Tonno Campos. Ho all'olio di girasole. Non l'ho mai visto. Costava tipo due centesimi in più rispetto all'altro che prendo. Comunque sono le scatolette però grandi. Quindi era in offerta e l'ho comprato. Poi ho preso delle albicocche. Sono enormi. Un euro e 45. Sono veramente grandi. Però secondo me le avevano appena tirate fuori dai frighi. Boh. Due formaggio e latteria. Un euro 81, un euro 83. E non avevo tempo di prendere altro. Al banco, a salumi, affettati, quelle cose là. Perché non avevo proprio tempo. E poi ho comprato questo al Pricks Nuggets di Merluzzo d'Alaska. E questi qua sono i medaglioni di Merluzzo. Anche questi uguali. Bene, andiamo a vedere adesso. Perché l'acqua, in teoria, ma quanto mi piace questa luce qua che ho messo. Purtroppo qui non riesco a attaccarla su. Perché non so come fissarla. E quindi qua rimane così. Però per il resto l'ho fissata e io la adoro. Perché vedo finalmente cosa faccio nel lavandino. Perché questa lucetta qua non illuminava abbastanza. E vedo cosa faccio qua soprattutto. Sta quasi bollendo. Sì, quasi. Allora, abbiamo mangiato i nostri due piatti che sono vuoti. Qui c'è il detersivo e l'acqua calda. Che è quella dove ho bollito gli gnocchi. Lì c'è un piatto in più. Perché ho fatto due buste. Quindi è avanzato un piatto. E questo è da buttare. Non ce n'è praticamente più. Ma è aperto da troppo tempo. Quindi ho da sistemare il lavandino. E volevo farvi vedere che mi è arrivato il detersivo Dash Pods 3 in 1. Erano tre scatole. Solo che una l'ho data a Franz da regalare ai suoi. E quindi... E vabbè comunque sono da 39 ciascuna. Quindi sono parecchie. Per un po' sono a posto. E' successo qualcosa. Perché ho sentito un'ambulanza. Sono andata a vedere. Praticamente c'era quella che veniva qui verso il paese. Che aveva la sirena. E ce n'era un'altra che andava invece in fuori. Noi si dice in dentro e in fuori. E... Sì che quella che veniva in dentro. Quindi verso il paese. Ha fatto inversione di marcia. E sono andate tutte e due la via. Nel parcheggio. Là. Quindi... O qualcuno sta male. Ma due ambulanze. Neanche una. La cosa è strana. Comunque lì si ferma sempre la gente a fare i picnic. Probabilmente qualcuno si è sentito male. Gli incidenti non ce ne sono stati. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere... Gli scontrini. E poi io concludo il video. Perché mi sono addormentata sul letto. E invece volevo andare a fare la doccia. No. Ho una stanchezza. Stavo guardando un video. Il video di Erika. Kawaii. E sugli slime. Però mi sono addormentata. Allora. Uno scontrino è qua. E l'altro non so dove sia. Forse l'ho messo insieme ai soldi. Io volevo prendere il sole. Anche oggi. Sì. C'è bene un raggio di sole adesso. Però. Però. Comunque. Vi avevo promesso gli scontrini. Eccoli qua. Questo è quanto. Quindi. Pricks. E Aeo. E come al solito. Io vi ringrazio per essere stati qua con me. Ma. Sono un po' più stanca. Ho la faccia da sonno. Sì che adesso vado a farmi una doccia. Che così magari mi sveglio un attimo. Dunque penso registrerò il video. Su. Praticamente quando toglierò la del semi permanente. Voglio testare con voi quei pezzi che avevo comprato da Wish. Li ho già provati e andavano bene. Però voglio provarli su. Con questo semi permanente di marca. E quindi farò anche quel video là. Vediamo cosa. Perché c'ho la ricrescita ormai che. È di due millimetri. Forse un po' di più. E questo qua si è sbeccato. Quindi ormai sono più di due settimane. Quindi è ora di toglierlo. Cioè è ora di rinnovarlo un attimino. Perché a me vederla ricrescita dà un po' fastidio. Però sono soddisfattissima del fatto che. Io abbia ancora tutte le unghie a posto. Tranne questa. Vabbè si è sbeccato oggi al lavoro. Sono sicura che se io non facessi il lavoro di pulizie. Sicuramente ce l'avrei ancora tutto perfetto. Purtroppo il lavoro è quello. Devo tenere guanti 8 ore. Quindi l'umidità insomma. Comunque intacca. Qualsiasi tipo di smalto secondo me. E va bene. Io non ho internet. Devo fare quella roba con l'IMS. Non ho internet. E di casa. Col telefono non posso farlo. Non ci riesco. E quindi sono un po' fregata oggi. Dovrò fare lunedì. Ci vediamo. Ci sentiamo in un altro video. Come sempre. Vi ringrazio per essere stati qua con me. Mi vedete col pile. Perché in casa. Io ve lo dico sempre. Questa è la stanza più fredda. E comunque c'è freddo in casa. E quindi. Voi magari vedendomi così. Starete morendo dal caldo. Io sto da Dio invece. Io sto benissimo così. Poi di fuori c'è il sole. E quindi bisogna stare in costume. Però in casa veramente è fresco. Quindi non posso stare tanto svestita. E se no prendo freddo. Dopo sto male. Quindi niente. Lasciate un like. Condividete. State qui. Sintonizzate sul canale. Non so neanche a parlare. Sono in titolo. Il cervello è andato in tilt ormai. Sta dormendo ancora. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.